e il secondo vestito che anche questo non mi dava un centesimo a vederlo sul sito ho detto ma sui soliti vestiti del cavolo invece dal vivo è bellissimo quando l'ho toccato uno ho detto no vabbè lo devo troppo prendere è questo qua, lo faccio subitissimo vedere senza che mi uccida sempre taglia S è nero in cotone ma un cotone bello grosso non è un cotone di quelli stupidi guardate che bello sempre taglia S fatto così il corpetto è tutto così in paillette micro paillette sull'azzurro bellissimo con il capello biondo e poi c'è l'abitino che viene giù a tunica normale manichina a tre quarti secondo me questo qua addosso fa una bellissima figura e nessuno penserebbe che siano vestiti del Lidl che poi va bene il loro costo costa 10 euro però insomma fanno una figura molto più bella di quello che poi in realtà magari sono spero che il video vi sia piaciuto ragazze aspetta leggere come al solito i vostri commenti ringrazio ancora le mie amiche, un bacione grande e vi auguro di trascorrere un buon Natale delle buone feste io non sarò in ferie nel senso che sono a casa Natale Santo Stefano ho giusto il tempo di fare la pipì tra virgolette però domani viene a trovarmi mia zia quindi sono comunque contenta che mi aiuterà un po' a sistemare la stanza degli orrori perché dovrebbe arrivare anche l'armadio a breve spero comunque vi aggiornerò appena so le cose per certo un bacione grande ciao